In Italia il 50% dei bambini con meno di 14 anni mangia in una mensa scolastica. In media ogni studente consuma circa 2000 pasti a mensa nel corso del ciclo scolastico obbligatorio. Vanno aggiunte le merende, fornite sempre dagli istituti. A scuola si consumano 380 milioni di pasti ogni anno, oltre 2 milioni di pasti al giorno, con un fatturato pari a 1,3 miliardi di euro l'anno. Sono 15 le maggiori aziende che forniscono circa la metà dei pasti nelle mense di tutta Italia. Per l'associazione Action Aid, migliorare la ristorazione scolastica è un'occasione da non perdere. Per questo ha lanciato l'iniziativa Io Mangio Giusto in una mensa 10 e lode per una dieta sostenibile nelle mense scolastiche. Nell'ambito di tale attività, avviata in occasione della giornata mondiale della giustizia sociale, Action Aid ha tenuto un'iniziativa presso l'Istituto Comprensivo Casalini di San Marzano di San Giuseppe. Il lavoro di sensibilizzazione al diritto al cibo ed educazione ad una sana e corretta alimentazione parte infatti dai banchi di scuola. Prodotti sostenibili dal punto di vista sociale ed ambientale, cibi sani, locali e di stagione, preferibilmente biologici, zero sprechi, una mensa trasparente dove bambini e genitori sono i veri protagonisti. E questa è la ricetta di Action Aid per una mensa scolastica sostenibile. Questa iniziativa rientra in un progetto che è partito due anni fa nel nostro gruppo insieme ad Action Aid Italia o insieme alla scuola praticamente. Si tratta di insegnare ai bambini di non sprecare soprattutto, quindi avere una mensa sana, sostenibile, che aiuti l'economia locale e soprattutto cominciare dal basso, quindi cominciare dai bambini per arrivare poi ai genitori e far comprendere il fatto di avere comunque una mensa sana e sostenibile appunto come dicevamo prima. Abbiamo visto che avete distribuito frutta oggi fatta a Macedonia, naturalmente più appetibile per i bambini. Abbiamo voluto proprio farla direttamente noi con l'aiuto di alcune mamme, anche nonne, abbiamo fatto con la frutta locale soprattutto e di stagione e abbiamo fatto anche una piccola merenda sempre fatta di carote, comunque con frutta di stagione, soprattutto locale, ecco, è sostenibile. Con oggi partirà un monitoraggio da qui a giugno dove i bambini in mensa praticamente alla fine del pranzo peseranno proprio fisicamente il cibo rimasto, il cibo rimasto nei piatti e lo annoteranno in un cartellone. Alla fine di questo periodo, penso fine giugno, faremo un po' il resoconto di quelli che sono gli scarti, del cibo che piace, quello che non piace, in modo da realizzare una commissione mensa fatta di genitori ma soprattutto da bambini, perché noi appunto vogliamo partire dal basso, dai bambini perché sono loro alla fine i protagonisti di tutto questo. E quindi arrivare a tirare delle somme e dire allora a San Marzano, questo è un progetto che va in tutta Italia, però a San Marzano si spreca tanto, a San Marzano questo è il cibo che va di più, questo è il cibo che va di meno, quindi insieme ai genitori creare una commissione mensa che vada a modificare quello che è il menù normale delle mensa e soprattutto usare cibo, come dicevo prima, locale, a chilometro zero e di stagione. Un obiettivo importante è quello che ha la scuola di educare alla corretta alimentazione innanzitutto e poi evitare gli sprechi. Certo, la scuola ha sempre degli obiettivi importanti da portare avanti, soprattutto anche quello di educare ad una buona alimentazione, ad aiutare i bambini soprattutto ad accettare il mangiare la frutta e la verdura perché sappiamo benissimo che non sempre i nostri ragazzi sono portati a mangiare ciò che è frutta e ciò che è verdura. Però grazie ad ActionAid oggi la scuola di San Marzano riesce a portare avanti questo progetto con il loro aiuto che è importantissimo perché attraverso questa organizzazione che è a livello internazionale stiamo portando avanti questo progetto che abitui i bambini a selezionare i cibi. Ecco, proprio il titolo è questo, io mangio giusto. Mangiare giusto vuol dire cercare di mangiare dei cibi sani e soprattutto mangiare i prodotti della nostra terra. È difficile però far capire ai bambini che hamburger e patatine non va sempre bene. Certo, nel momento in cui l'obiettivo è solo della scuola sarà molto difficile che i bambini lo possano capire però come tutti gli obiettivi che la scuola si pone supportati dalle famiglie sicuramente pian piano riusciremo a far capire ai nostri alunni l'importanza di cibi sani e che quindi l'hamburgo e le patatine possono anche essere consumati in una maniera diversa magari non con il fritto o non con impassi particolari. Però il lavoro della scuola è importante ma è molto importante il supporto delle famiglie. E con riguardo invece in conclusione alla mensa? Allora, questo progetto è proprio collegato alla nostra mensa scolastica. Noi abbiamo i bambini della scuola dell'infanzia che frequentano tutti la mensa scolastica ma abbiamo anche un tempo prolungato nella secondaria di primo grado e abbiamo un tempo pieno nella primaria. Noi puntiamo a quello perché siamo convinti che il passare più tempo nella scuola oggi può essere più produttivo nei confronti delle nuove generazioni. Però passare più tempo vuol dire anche dare un servizio mensa e noi attraverso anche questa iniziativa, sempre ripeto grazie ad ActionAid cerchiamo di sensibilizzare anche i gestori della mensa nell'uso di cibi genuini e soprattutto ripeto di cibi collegati alla nostra terra quindi i prodotti della nostra terra. Noi abbiamo tantissimi prodotti della nostra terra che sono eccezionali abbiamo, si può dire, l'oro nel nostro territorio e forse c'è anche un obiettivo più ambizioso in questo. Oggi noi purtroppo abbiamo l'abbandono delle nostre terre molta gente ha abbandonato le campagne per pensare ad altro i nostri, ecco, cercare di far capire ai nostri ragazzi che la coltivazione della nostra terra è importante che si possa riprendere il lavoro sulla nostra terra. Anche l'amministrazione comunale di San Marzano di San Giuseppe nella persona dell'assessore alla pubblica istruzione Caprino presenta questa iniziativa. Qual è il contributo dell'amministrazione? Come amministrazione noi siamo stati sempre molto vicini attenti a queste problematiche proprio per quanto riguarda la differenziazione dei cibi, dei ragazzi tant'è vero che forse siamo uno dei pochi comuni nella provincia di Taranto e oltre che ancora si cucina nelle proprie mense quindi abbiamo un menù poi condiviso con l'asle che ruota intorno a quattro settimane quindi noi, anzi, queste iniziative fanno magari riportare alla ribalta pure con l'amministrazione comunale di San Marzano e lo dimostra tutti i bambini di San Marzano che vanno, e abbiamo le aule stracolme che tutti i bambini vanno in quella scuola materna perché in effetti, oltre che l'istruzione che è eccezionale della scuola c'è pure una questione proprio dietetica di qualità perché è l'unica scuola dove si cucina si cucina proprio all'interno della scuola Seguirete i consigli di Action Aid, di questo monitoraggio? Certo, anzi, noi accettiamo con molto favore l'iniziativa che Action Aid si ha messo in atto oggi proprio speriamo che anche loro ci dino altri suggerimenti per cercare di migliorare ancora di più perché la nostra disponibilità è proprio quella di stare a favore dei bambini e portare pure i prodotti della nostra terra figuriamoci Grazie